Allora, buonasera ragazzi, anche voi in semifinale, prima serata del semifinale qui al Rising Club di Roma. Voi che mi dite? Nomine, gruppo, genere e provenienza. La discordia, posso appassionare? Roma, Marche, Vittoria, Pestu, Ascol Ceno, Parla di Roma. La discordia è romana, radice romana però ha anche influenze marchigiane. Ho capito. Ma non c'è un po' particolare, se non sbaglio. Voi, vede il tempo anni 70 e, se non sbaglio, riportate questo roccio comunque anche potente, anche con influenze originali e antiche, visto che stiamo radici da... Etiniche. Etiniche. Di solito ci dicono i diliate, poi invece ho detto etiniche. È molto interessante questo, diciamo, adattamento un genere a questo psicologico, mentale e psichedelico. Cosa portate questa sera qui al Rising Club per Anglicate e Ibracicola? Portiamo un'ossessione simbolo, una serie di pezzi, un po' siano l'inganno, per cercare appunto un momento a due queste soluzioni da psichedeliche di questo stato d'animo. Il percorso precedente di un personaggio vicino, precedente di pochi per pochi anni può qua. E portiamo un po' di notizia, perché stiamo sperimentando questi... Comunque mi è piaciuto molto quello che avete fatto, sia a lui che alla giuria e anche a me con lui. Vi ringrazio, vi faccio rilontare un po' e ci vediamo in finale. Ci vediamo. Ci vediamo. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.